Finalmente dopo 12 anni il sistema di statistica regionale viene attivato anche in Molise. La regione si unisce infatti con l'Istat per stabilizzare la rete locale. Era presente alla conferenza stampa il direttore nazionale Malizia, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa da considerarsi in Molise come un punto di partenza. Una ripartenza che deve partire proprio dalla conoscenza della realtà, quindi costruire le basi di conoscenza per poi intervenire. E, questo è davvero importante, intervenire su una realtà che si conosce, sulle sue contraddizioni, sui suoi punti di debolezza, ma puntare anche sui punti di forza che sicuramente il Molise ha in alcuni risvolti della sua situazione economico-sociale, ma poi monitorare gli impatti degli interventi decisi e alla fine rendi contare, in termini di risultati raggiunti, quelli che sono gli esiti delle iniziative di polisi che sono state intreprese. È dal 2003 che in Molise si sente parlare di Sistar, ma non è mai stato avviato. Non è obbligatorio avere un sistema statistico regionale. In Italia ce ne sono alcuni, non tutte le regioni si sono dotate di questo strumento. Ma quanto costa la regione molise? Le risorse che ci sono sono quasi impercettibili perché si tratta di utilizzare al meglio le risorse che si hanno a disposizione in termini di capitale umano e quindi eventualmente riallocare risorse umane che hanno le competenze o le potenzialità per acquisire competenze idonee a svolgere la funzione statistica e poi quel minimo di attrezzatura tecnologica e informatica che serve per avviare dei processi che siano effettivamente al passo coi tempi. Da oggi quindi la regione molise sarà dotata di un sistema molto utile e proficuo che potrà dare trasparenza e veridicità alle linee programmatiche. Un sistema voluto fortemente dal consigliere regionale con delega alla programmazione Vincenzo Cotugno.